Allora, continuiamo nella nostra camminata nell'informazione. Gianluca, allora, una notizia di oggi, un'ansa abbastanza imbarazzante, riguarda le scuole. Allora, le mascherine devono essere a un prezzo calmierato per le scuole di 25 centesimi. Parliamo di FFP2, che sono le uniche veramente protettive per i bambini, i studenti, gli alunni, i professori, eccetera. Invece cosa succede? C'è una dichiarazione di Rusconi che dice che siamo obbligati ad acquistarle in farmacia a 75 centesimi perché quello che ci è stato promesso sul portale non esiste. Quindi, per esperienza personale, anche da papà che è andato in farmacia, non stanno neanche a 75 centesimi. Stanno almeno a 90-95, quelle dei bambini, perché sono ovviamente più piccole. Quelle, diciamo, da adulto si possono trovare anche qualcosa a meno, ma comunque diciamo che ci siamo come prezzo. Ma sfioriamo l'euro addirittura in alcuni punti, però non stanno a 75 centesimi. Ora sono obbligati a cambiarle anche due volte al giorno. Anche qui parlo per esperienza personale senza che nessuno mi possa smentire in una nota a scuola dell'euro. E questo è quello che avviene. Avviene che i bambini, che sono più soggetti, e comunque è cambiato anche il discorso della DAD, perché all'elementare si andava praticamente con uno, si partiva la sospensione attiva, il controllo attivo, cioè ovvero che l'ASL ti debba dire che tu per cinque giorni devi controllare il tuo figlio e poi dopo fare un tampone al quinto giorno. È cambiata questa, chiamiamola, regola normativa. Ormai qui non si sa più neanche come dire le cose. Comunque adesso si va in DAD con cinque. Ripeto, all'elementare l'hanno equiparato alle scuole medie. Questo è buono perché ovviamente i vaccini si stanno facendo tra i ragazzi, ovviamente dai 5 agli 11 anni, e quindi c'è meno rischio. Poi molti se lo sono anche preso perché sta circolando tanto questa variante. Tantissimo, è molto diffusiva. Chi dice Delta, chi dice Omicron, ripeto, non sono io un esperto, mi rifaccio a quello che dicono. Comunque sta girando tanto nei bambini da dicembre in poi, che è una scheggia impazzita perché poi dopo si ripercuote anche sugli adulti. Detto questo, per fortuna che è cambiata questa norma. È un po' diverso anche per i niti e per le, io le chiamo le materne, perché? Perché lì non c'è obbligo di mascherina e i vaccini sono, diciamo non ci sono, perché bambini cinque anni in poi stiamo parlando di elementari. Però occhio perché qui ne risente anche l'economia, perché cambiare una mascherina o due al giorno, bambino. Ecco, noi abbiamo fatto questa aggiunta alla scaletta, un fuori scaletta, perché proprio ci sembrava dover dare questa notizianza. Non è possibile che le famiglie si debbano caricare quest'ulteriore costo rispetto a tutti gli altri che già stanno sostenendo. Abbiamo parlato prima con il professor Fortuna, economista, l'Italia sta in difficoltà. Ecco, non aggiungiamo. Rispettate quello che è stato detto dal governo. C'è un prezzo calmierato di 25 centesimi per le scuole. Deve essere così. Non è possibile che le scuole si debbano caricare un onere maggiore. Allora, dalla regia cortesemente, un noto PR che lavora a Formentera in Italia per le discoteche, pronto per il collegamento. Ma prima di parlare di discoteche io vorrei partire con il servizio di Francesca Pierri a proposito di discoteche e novità. Riapertura delle discoteche fissata per febbraio 2022. Una mini proroga di dieci giorni stabilita dall'ultimo Consiglio dei Ministri per le discoteche e le sale da ballo. Fino al 10 febbraio rimarranno chiuse come locale pubblico per intrattenimento con il posto al tavolo. Gli imprenditori e i lavoratori del settore sono sull'orlo della disperazione. Non siamo degli interruttori che si possono accendere o spegnere. Il 10 febbraio riapriremo ogni costo. Perché non possiamo più continuare a stare chiusi. Lo dice Maurizio Pasca, presidente della SILB FIPE, l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. A Radio Cusano Campus, nella trasmissione Cosa succede in città, condotta da Emanuela Valente. Si balla ovunque, dai bar ai ristoranti, per non parlare delle feste private. Eppure le discoteche restano chiuse. Dall'11 febbraio si torna a ballare, ma seguendo i protocolli già approvati. Entrerà soltanto chi ha il Green Pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Le discoteche che non dispongono di sale esterne prevederanno l'uso obbligatorio della mascherina, tranne sulla pista da ballo. Dall'11 febbraio, nelle discoteche all'aperto, si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all'aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata. Andiamo verso una fase nella quale all'emergenza si sostituirà la convivenza col virus, ha detto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. E molte delle restrizioni alle quali ci siamo abituati, come il distanziamento o l'uso delle mascherine, andranno progressivamente ridotti sino al ritorno ad una nuova normalità. Eccoci di nuovi studi in diretta, abbiamo sentito Gianluca la situazione per le discoteche abbastanza nello stallo, dovrebbero riaprire. Allora sembrerebbe che al chiuso il 50% mentre il 70% all'aperto. Al chiuso con le mascherine, voglio vedere uno che balla con le mascherine, all'aperto senza mascherine. Certo questo è un mondo un po' a parte, abbiamo visto che i contagi sono altissimi, si va in discoteca perché l'abbiamo visto Capodanno eccetera, brac tutti i malati. Allora colleghiamoci subito con un PR di discoteca in Italia a forma intera, Angelo Cervo. Angelo ci sei? Eccolo. Quasi salve, buonasera. Allora il mondo della notte riapre tra breve, sei contento di quello che è stato stabilito? Beh, diciamo da quale punto di riferimento dobbiamo partire perché se partiamo dalla chiusura, ovviamente sì, sono contento perché comunque riaprire è già un segnale ed è un qualcosa di importante per tutto il movimento, per tutto il settore. Se dobbiamo poi paragonare insomma agli altri settori, devo dire di no, perché ovviamente è inutile nasconderlo, non lo può dire nascondere nessuno, siamo i più, siamo stati e siamo i più danneggiati, ma ancora adesso, quindi di conseguenza c'è un settore in ginocchio. Quindi ripartire sì, ma con quali prospettive e soprattutto con quali garanzie, perché ovviamente se la curva dovesse risalire, speriamo mai più, però insomma anche non lo sappiamo. Quindi ovviamente cos'è? Un'altra volta è colpa delle discoteche, perché ovviamente si fanno assembramenti e quant'altro, quindi richiudiamo comunque loro senza poi mandare nessun ristoro, non c'è nessuna cassa integrazione, niente di niente. Abbiamo milioni e milioni di persone, milioni no, ovviamente centinaia di migliaia di persone che lavorano con partita IVA, tra cui il sottoscritto che ha ricevuto veramente neanche le briciole. E' veramente molto triste, molto abilente, perché comunque diciamo che prima del Covid noi siamo quelli delle star agire sabato sera, siamo quelli che comunque vendiamo alcol, siamo quelli che comunque non siamo ben visti, diciamo, dalla gran parte della comunità. Però diamo un servizio secondo me sociale importante, perché abbiamo visto che con le discoteche chiuse, gli assembramenti, perché i ragazzi hanno bisogno anche a livello psicologico di una valvola di sfogo importante come può essere quella appunto del divertimento e sicuramente quando vengono in una discoteca sono comunque protetti, sono controllati, hanno comunque dei canoni da rispettare, sempre legato comunque a un divertimento, però che deve essere il più possibile sano. Quindi è un qualcosa che purtroppo noi affrontiamo da anni il problema, c'è la demagogia sulle discoteche, ma al di là di quello con il problema Covid è stato evidenziato all'ennesima potenza. Quindi purtroppo alla domanda se sei contento rispondo un nì, tutto quello. Ecco, però è pure vero che sono usciti, appena avete riaperto, molti servizi, molte inchieste, che quando chiedevano Green Pass, no, entra pure, non fa niente, e invece delle cento persone entravano mille. E quindi poi questo ha portato a un salire della curva, non siete solo voi, anche le discoteche hanno contribuito a rialzarsi della curva dei contagi da Covid, perché oramai è scientificamente provato che la distanza ravvicinata, il fiatone di quando si balla, se Omicron vola veloce in una stanza di 10 metri quadri, figuriamoci se tu stai intorno ai 300 persone che ballano. Io non sono un virologo, quindi ovviamente non posso rispondere a questa domanda, sicuramente è normale che se il virus si trasmette così velocemente di aria, quindi il sol parlare e quant'altro, sicuramente così. Non posso nascondere che magari qualche collega abbia comunque chiuso un occhio se c'era un Green Pass, magari un po' più così ballerino, questo non è, però le assicuro che succede in tutti i settori. Ora non è che uno, insomma, ripeto, io capisco che le discoteche si può fare meno per la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando, quindi magari se uno tocca, magari sa, la ristorazione, i bar sono qualcosa di, oddio, ma no, infatti guardate nella prima e seconda ondata, quando hanno chiuso i ristoranti è successo il delirio, come è giusto che sia, attenzione, però se chiudi le discoteche non succede nulla. Che cosa fanno? Al massimo si mettono, si alzano la musica a casa e ballano a casa? O comunque magari, quello che dico io era il discorso... Sì, sì, io capisco il tuo discorso, però tu lavori a Formentera, lì mi sembra che le leggi siano completamente diverse. Da questo anno, le Baleari, dopo due anni di stop, hanno già proclamato la stagione, quindi riapriranno nelle Baleari, quindi parlo anche di Ibiza, soprattutto che è la capitale della Life Night mondiale, da lì tutto, quindi Ibiza quest'anno riapre, di conseguenza Formentera, ovviamente stiamo parlando di locali prettamente estivi, quindi la maggior parte sono all'aperto, ma ci sono anche locali al chiuso, ovviamente lì girano centinaia e centinaia di migliaia di euro, quindi di conseguenza è un core business molto più grande rispetto ovviamente il turismo, immaginiamo che Ibiza sia quasi il 95% forse del PIL, non lo so, ma poco ci manca, ed è stato due anni a suo offerto, di conseguenza anche Formentera, e quest'anno hanno già appunto proclamato l'apertura della stagione, quindi comunque che si lavorerà, le discoteche saranno aperte, ma non è solo Formentera, penso che ormai è in quasi tutta Europa, lasciamo stare Londra e Inghilterra che ha preso ovviamente, ma anche la stessa Francia, in Danimarca, hanno levato anche il Green Pass, in Svezia non hanno mai chiuso, insomma comunque piano in Germania. Certo, senti, ogni paese fa a modo suo, diciamo, però noi cerchiamo di evitare, hai visto le terapie intensive che già scoppiano con pochi casi, figuriamoci con quello che è successo con il Covid. Tu sei vaccinato con le tre dosi? Allora, io ho avuto il Covid l'anno scorso, quindi ho avuto una, allora, vigente, una regola della protezione, quindi mi hanno fatto una dose che doveva durare nove mesi, invece adesso scade in sei mesi, quindi mi scade ad aprile, io la faccio tra 15 giorni, ho il vaccino, il booster. Eh, è certo. Ma io ho una cosa che forse mi raccomando di non mischiare le due cose, noi siamo a favore dei vaccini, io intendo ovviamente, non rappresento ovviamente tutto il settore, ma parlo con tanti, tanti, tanti colleghi, noi siamo pro-vax, quindi ovviamente è importantissimo vaccinarsi, è importantissimo tutelarsi per sé e per il prossimo, soprattutto per ovviamente ritornare a vivere il prima possibile come si viveva tre anni fa. Però ovviamente è proprio per questo, cioè, mai e poi mai abbiamo pensato, ho detto magari, com'è possibile che ci richiudano dopo che l'87%, allora 85% era vaccinato, con il super grifato. Purtroppo però, Angelo, bisogna andare dietro alla curva dei contagi e quello che porta a propagazione del contagio dovevano intervenire quei ristori, ma non può essere messa a rischio la salute pubblica, questo lo capisci, no? Perché poi il ragazzo quando viene lì, la mascherina, ma quando se la tiene quando sta in discoteca? Ha pienamente ragione, però se mettiamo da parte un secondo la parte della salute, che ovviamente è primaria, è fondamentale, ci mancherebbe altro, non ricordiamo che noi ci hanno detto il 22 di dicembre che non aprivamo a Capodanno. Quindi ovviamente Capodanno è il nostro, non dico che... È il lavoro principale di tutti, di tutti chi ha questo tipo di locali. Non è arrivato nessun ristoro, quindi anche questo è una cosa... Assolutamente da sottolineare, certo. Io ti ringrazio Angelo, devo chiudere il collegamento perché devo andare avanti, grazie per la tua testimonianza, buon lavoro, buon lavoro e speriamo che le cose cambino. Grazie mille, ciao Angelo. Allora diamo la linea alla pubblicità perché dobbiamo partire ancora, dobbiamo continuare, non partire con altri due ospiti, a fra poco. Allora diamo la pubblicità perché dobbiamo partire, non partire con altri due ospiti, Grazie. Grazie.